Ciao a tutti, oggi vi voglio sottoporre un argomento che mi sta molto a cuore, i libri, i libri come momento di lettura, di piacevolezza, i libri come informazione, i libri come cultura generale. Oggi i libri con la tecnologia sempre più dirompente rischiano di essere fuori misura, fuori periodo storico, mentre invece a mio parere sono fondamentali per riuscire a parlare in pubblico, per riuscire a essere creativi, per riuscire a creare le condizioni ideali dello stare nel business e nel mondo degli affari. Una buona cultura generale è fondamentale in qualsiasi tipo di attività. Io non ho fatto all'università e devo dire che ho studiato molto sui libri di qualsiasi genere, dai manuali ai romanzi a libri che raccontavano l'autobiografia di personaggi straordinari e che in qualche modo, oltre a essere un effetto importante come cultura, è anche un qualcosa che ti carica psicologicamente. Ci sono dei personaggi tipo Warren Buffett che hanno inventato le strategie finanziarie più significativi, uno degli uomini più ricchi del mondo. Si dice che lega un libro al giorno, ma lo stesso Bill Gates, il fondatore della Microsoft, è un altro portatore di libri a tutto tondo. La lettura deve essere una cosa piacevole, deve essere una condizione ideale dello stato d'animo della persona. A me viene in mente una frase sentita da Marchionne in una discussione, quando lui entrò a far parte della Fiat, lui venne dall'America e era il mese di agosto e entrando negli uffici di Torino scoprì che non c'era nessuno. Praticamente tutte le persone erano andate in ferie perché era agosto e lui non si capacitava, come poteva fare un'azienda come la Fiat, che perdeva 5 milioni al giorno, ad avere delle persone in ferie. Ecco, il tema delle ferie e il tema di Marchionne le vorrei abbinare al tema del libro, nel senso che per Marchionne stare in ferie era una perdita di tempo, ma non solo perché lui era un amministratore delegato di una delle più importanti aziende italiane, ma perché per lui il lavoro era piacevolezza. Lo stesso discorso vale per il libro. Se il libro è piacevolezza, ecco che se ne leggono tanti. Se il libro non è piacevolezza, chiaramente porta a delle problematiche di altra natura. C'è un detto, e non voglio che nessuno sarrabbi, che dice che avere librerie grandi, televisori piccoli. Avere televisori grandi, librerie piccole. Nel senso che, bene o male, i libri sono un qualcosa di diverso dalla televisione, che tra virgolette ti incanta e ti racconta quello che vuole lei. Mentre il libro è un momento per giudicare, per definire gli aspetti critici di qualsiasi materia. Sempre parlando di libri, io credo che un altro elemento, visto che oggi siamo nel mondo della tecnologia, è quello relativo al fatto che conviene avere il libro di carta o conviene avere il libro digitale. Io di norma preferisco quello digitale, perché è molto più pratico, perché riesco a portarne presso quanti ne voglio, senza avere dei pesi eccessivi, senza dover riempire delle biblioteche intere e allo stesso tempo riuscire ad averlo sempre a portata di mano. Io ad esempio per la lettura uso dei tablet da 7-8 pollici, perché sono i più pratici sono quelli che puoi tranquillamente leggere a letto, tenendolo con una mano, piuttosto che un iPad che è molto più voluminoso. Dall'altra parte, il libro digitale ti aiuta perché riesci ad afferrare i concetti, a tra virgolette tradurli in ambito internet, ti fai una mail, ti prendi un appunto, da quell'appunto puoi fare un copia e incolla che ti può aiutare in una discussione d'affari che dovrai fare il giorno dopo. Ecco, diciamo che ti aiutano molto ad aprire una visione più completa, soprattutto usando il digitale come elemento più diretto per riuscire a coniugare la lettura con l'utilità. Altro aspetto non secondario è quello che il libro digitale costa meno. In effetti c'è meno consumo di carta e allo stesso tempo anche da un punto di vista della praticità. Io mi trovo in qualsiasi posto, voglio leggere un libro che ho trovato su Amazon piuttosto che su qualche altro sito online di libri e in automatico io faccio l'ordine e dopo qualche secondo è già sul mio tablet pronto alla lettura. Non solo, i libri possono essere letti per la prima parte di pagine, una ventina di pagine, fanno da cappello del libro e uno si rende conto se quello è il libro per il quale può avere un interesse o meno. Tutto questo senza dover uscire di casa, senza andare a ricercare la libreria che ormai non se ne trovano più e allo stesso tempo riuscendo a diventare funzionale per qualsiasi tipo di attività della quale uno ha bisogno. Tornando al libro più a carattere generale, io consiglio vivamente che i vostri figli leggano e dedichino un po' più di tempo ai libri, un po' meno tempo ai videogiochi piuttosto che agli smartphone come spesso accade in tutte le famiglie. Perché il libro poi alla fine è un qualcosa che aiuta realmente i giovani a farsi un'idea di quello che potrebbe essere il loro futuro domani e allo stesso tempo anche a fare in modo e maniera di essere consapevoli di quello che vogliono dalla vita senza essere troppo condizionati da scelte di altra natura. C'è una statistica dell'Istat che dice che il 60% degli italiani legge meno di un libro all'anno ed è un numero veramente pesante. Si dice anche che più o meno solo il 10% della popolazione legge libri. Allora questo per una nazione come la nostra che ha dei grossissimi problemi di produttività, che ha dei grossissimi problemi di disoccupazione giovanile, credo che sia una delle cose che dovrebbe farci ulteriormente riflettere. Perché se noi andiamo a vedere invece le statistiche di altri Stati europei, il numero di persone che legge libri è decisamente più alto. Quando parlo di libri ci metto dentro anche tutto quello che può essere l'informazione utile e mi riferisco in questo caso anche i mezzi tecnologici. Su YouTube ad esempio ci sono dei bellissimi momenti di presentazione di argomenti da parte di persone che ne sanno. Anche quello senza leggere un libro può essere uno strumento per imparare, per riuscire a crearsi le condizioni di poter decidere se una cosa è giusta, se una cosa è sbagliata, senza essere troppo condizionati da situazioni diverse e anomale. Così pure nel mondo tecnologico esistono i podcast. Il podcast è uno strumento che praticamente è solo audio e ci sono delle persone che discutono, parlano di argomenti più disparati e se uno fa una sana selezione anche di questo diciamo che è come leggere dei libri. In ultimo poi ci sono gli audiolibri che sono momenti che servono per farsi cultura senza dedicare tempo a utilizzare la vista, mi spiego meglio. Un camminatore come sono io al quale piace fare tanti chilometri al giorno, avere uno strumento che mi dà concretezza, informazione come può essere un audiolibro piuttosto che un podcast, ecco per me è molto utile per riuscire a colmare quei gap che mi servono nel mondo del business piuttosto che nell'informazione e nella mia cultura più generale. Penso che si possa fare questa affermazione. Se leggo posso avere delle buone probabilità di successo, se non leggo posso rischiare il contrario. Il fatto del costo della lettura, adesso al di là degli aspetti digitali, cartacei o meno, ci sono tante biblioteche in giro per tutti i comuni italiani e sono gratuite. Quindi il voler leggere è una soluzione anche non costosa. Dall'altra parte, torno a dire, gente come Warren Buffett che si dice che lega anche 500 pagine al giorno, quindi dedica quasi tutto il tempo della sua vita alla lettura, mi fa pensare che comunque questo può portare successo. Ma se prendiamo Elon Musk, quello che ha inventato la Tesla, ma che prima aveva inventato Paypal, alla domanda per la quale gli hanno chiesto, ma scusa ma da Paypal sei arrivato a fare il roba che va nello spazio, come ci sei arrivato? Lui ha dichiarato che è stato solo una questione di leggere tanti libri che parlavano di questo argomento. Alla fine, quello che voglio dire è riduciamo un po' i reality alla televisione e proviamo a dedicare il nostro tempo in una maniera un pochino più interessante, anche tenendo conto che il leggere diminuisce lo stress e la lettura, che non è detto che serve solo ai giovani, ma può servire anche alle persone anziane, perché questo crea le condizioni di un miglioramento dello sviluppo della corteccia cerebrale e questo può aiutare notevolmente in tantissime malattie. Quindi credo che una buona e sana lettura possa diventare un obiettivo per il 2019 per tanti di noi. Buon proseguimento e grazie dell'attenzione.